Il gioco Il giocatore che siede alla sinistra del mazziere mette nel piatto il buio e quello seguente mette il controbuio, che di norma equivale al doppio del buio. Gli altri partecipanti al gioco non mettono nulla. Al momento della prima distribuzione, il mazziere dà due carte coperte a ciascun giocatore, una alla volta in senso orario, partendo dal primo giocatore alla sua sinistra. Ha inizio il primo giro di scommesse, partendo dal primo giocatore a sinistra di chi ha effettuato il controbuio. Ogni giocatore può passare, puntare, vedere o rilanciare, basandosi unicamente sulle due sole carte che possiede. Non si può fare tuttavia il check, a eccezione di chi fa il controbuio, se nessuno ha rilanciato. Il mazziere brucia quindi una carta, ovvero la elimina dal mazzo senza scoprirla, e inizia a girare tre carte al centro del tavolo da gioco. Queste tre carte vengono denominate flop, e sono le prime tra le community cards. Dopo di ciò inizia il secondo turno di scommesse, a partire dal giocatore che fa il buio. Il mazziere brucia un'altra carta, e ne scopre una quarta al centro del tavolo. Questa carta fa sempre parte di quelle comune a tutti i giocatori, e viene chiamata turn. Incomincia il successivo giro di scommesse, e per esattezza il terzo. Anche in questo caso, i giocatori ancora in partita possono passare, vedere o rilanciare. Dopo che tutti i partecipanti hanno agito al meglio delle loro possibilità, il mazziere brucia una nuova carta, e posiziona la quinta e ultima carta al centro del tavolo, accanto alle altre quattro. Quest'ultima carta si chiama river. Si svolge il quarto e ultimo giro di scommesse, sempre a partire dal giocatore alla sinistra del mazziere.